Ufficio. E' la porta più... con maggiore... con maggior numero di guardie. Allora nascondi io di Falcone. Quattro guardie armate. Non posso fare una stealth. Devo pianificare un attacco. Resta in attesa. Momster. Vedo alcune... opzioni per buttare giù questo tizio. Stai scherzando? Sul serio? Cosa fa? Fa tipo Sherlock Holmes che pianifica tutte le mosse in anticipo e poi le fa una dietro l'altra? No ma se è così... E adesso che faccio? Moved Reticor. C'è qualcos'altro che posso fare qui? Io non posso più selezionare nulla. Sì, sì, posso farlo. Mobster. Quest'altro. Questa è una paratia. Large coffee table. Guardia seduta. Lo prendo e gli sbatto la testa contro il tavolo. Sto andando in fibrillazione. Sta concentrando su come buttare giù le guardie armate. Pilastro di marmo. Sì, così. Ne rimane uno se non ricordo male. Questo. Questo potrebbe essere difficile. Qualche idea? Ci penso io, Alfred. Sì. Sì. Ha formulato il suo piano d'attacco? Vado dentro. Molto bene, signor. Molto bene. Tocca a lei. Crashare il party. Insomma, non so come renderlo. Tocca a lei rovinare la festa. Sì, è proprio così. Che figata. E metti che nel frattempo si muovevano tutti. Sospensione dell'Incredibilità. Beccati quest'arte moderna. È Batman! Scusi, signore. Compromesso. È mancato. Ah! Mancato! Presa! Dai, riempiamo l'indicatore. Ah, dai! Ah! Ah! Eh no, Falcone. Eh, non si fa così. Mostrati! Non è nessun cacchio di diritto di essere qui! Io? Domino Gotha! Che diavolo... Cristo! E... Wow! Ho riempito l'indicatore. Posso fare la mossa segreta? Che mi dici di questo? Mancato. Impuso elettromagnetico armato. Mancatissimo. Ah ah, sì! Credi davvero che funzionerà? Credi davvero che funzionerà? Brucerò tutto questo postaggio. Leva queste malacce dalla mia resta... Vestaglio. Dove sono i miei avvocati? Stai giù, Falcone. Possiamo finirla ora. Hai molto da imparare, ragazzo. Mossa segreta. Esplosivi armati. Esplosivi armati. Sparare appena pronto. Ehi, chi è che è ancora molto da imparare? Hai perso Falcone. Hai perso Falcone. Posso resistere ancora a qualche rato. Va bene, va bene. Gli agenti Kink. Dove sono? Cosa? Ho trovato la tua rosa. La tua rosa al porto. La rosa bianca. Pensi che io volessi mandarti lì? C'è qualcosa che puzza qui. E non è... Un bambistranno morto. Vuoi ancora giocare? Ci sono i miei chimici di cui parli sono tutti miei, ok? Ma c'è qualcuno che sta cercando di buttarmi fuori. Perché io non ho fatto quel casino. E allora chi è stato? No, abbiamo finito. Gotham sta guardando adesso. No, ci siamo sbagliati. Avanti. Dai uno show. Sarò libero. Entra domani mattina. Arresta o brutalizza. Arresta. Stanno guardando tutti. Gotham saprà di questa cosa. Aspetta, aspetta. Oh, Gesù. Oh, onnipotente è Cristo. Sputa il rosso falcone. Finché puoi. Sono i Wayne. Ci sono loro dietro tutto questo. Cosa vuoi dire? Vuoi salvare questa città? I Wayne sono i più grandi gangster di Gotham. No. No. Grazie per l'assist. Grazie per l'aiuto. Ora dobbiamo buttare giù solo uno di voi. Santo cielo. Potente. Ovviamente, le notizie. Racconta quello che è successo. In questa visione, though I'd say the crime boss getting his is well overdue, Falcone has slipped through the law's grasp for years, but after this dramatic arrest, and evidence released by the GCPD's Lieutenant Gordon, Falcone is going away for a long, long time. And speaking of newly uncovered criminal dealings, this brings me to the story everyone is talking about. The Wayne family. Ahia. Per generazione, la grande W-usola Wayne Enterprise Tower, ha avuto un, diciamo, un manifesto di sicurezza. Sicurezza del fatto che questa città è stata costruita da brava gente. Ma non abbiamo più questa sicurezza. chiunque ha fabbricato queste bugie sulla mia famiglia, otterrà quello che merita. continueremo a cercare la verità, ma sembra che il sole che rappresentano i Wayne in Gotham stia tramontando. In pratica, le notizie sono la conseguenza delle mie azioni qua. Tutto ciò che ho costruito, ho creato tutto questo, perché non volevo persone innocenti che morissero. ma se Falcone sta dicendo la verità sui miei genitori, allora perché piazza le sto facendo tutto questo? Bruce, che cosa mi hai nascosto? Alfred! Io sono piacevolmente soddisfatto da questo nuovo punto di vista su Batman. Allora, vediamo un po' le scelte. Io ho il 32%, 33% dei giocatori. Ah, la maggior parte delle persone ha voluto Harvey Dent nell'incontro con Falcone. Allora, io la maggior parte delle persone ho scelto di dare a Vicky Veil una dichiarazione. Qui ce la giochiamo. Eh, vedi, qui, per quanto riguarda la rottura del braccio, quasi, siamo quasi a metà, ma sono leggermente sotto io. La maggior parte si è fidata ovviamente più di, eh, del luogotenente Gordon piuttosto che di Vicky Veil. E poi, ovviamente, considerando la brutta situazione, il fatto che è sotto gli occhi di tutti, la maggior parte delle persone ha scelto di arrestare Falcone, invece di brutalizzarlo. E qui c'è il, il resoconto. Signori, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se siete interessati a proseguire. Io, di sicuro, proseguirò. Alla prossima!